ciao a tutti amiche di uncinetto oggi vi propongo questo giacchino molto semplice da fare con questo motivo che si sviluppa da un lato e da quest'altro lato molto carino come vedete le maniche sono un po scampanate quindi tendono ad essere un po più morbide come vedete scendendo quindi sono un po più morbide è un progetto molto carino io ho lasciato le maniche a tre quarti voi potete anche un po allungarle e potete se vi va anche mettere un bottone qui magari per chiuderlo è un progetto quindi adatto a tutte spero che vi piaccia prima di lasciarvi al tutorial vi ricordo che ho creato un gruppo facebook se vi va iscrivetevi vi lascio il link in descrizione inoltre potete anche seguirmi su instagram vi lascio sempre il link giù in descrizione ma passiamo subito ai materiali che occorrono per realizzarlo per realizzare questo progetto userò questo filato che si chiama everest questo è un gomitolo che è composto dal 75 per cento di lana 25 per cento di acrilico ogni gomitolo è di 100 grammi per 100 metri ferri uncinetto consigliati dal 7 all'8 io userò questo colore che il bianco qui abbiamo il colore numero 1 bagno 730 poi userò il grigio che ha il codice 200 bagno 739 e userò il lilla qui abbiamo il colore 132 bagno 144 questo è un filato veramente molto bello molto soffice e come vedete ha uno spessore abbastanza importante come vedete abbastanza spesso è molto morbido al tatto e io lo consiglio per realizzare tanti progetti come ad esempio cardigan maglioni molto avvolgenti sciarpe cappelli e tanto altro ancora questo filato se vi interessa per realizzare il mio progetto potete trovarlo sul sito online lane di biella in tanti colori diversi infatti all'interno del sito troverete ben 28 colori di questo filato quindi c'è veramente un'ampia scelta inoltre vi ricordo che all'interno del sito lane di biella trovate veramente un'ampia gamma di filati infatti troverete sia la pura lana l'acrilico l'alpaca il cashmere il cotone filati la me mistilana quindi veramente un'ampia scelta inoltre ci sono anche molti filati in rocca inoltre lane di biella vi ricordo che offre tutti i tipi di pagamenti anche quello in contrassegno per voi invece che siete le mie scritte lane di biella offre uno sconto del 10 per 100 se inserite nel campo codice promozionale la parola magico naturalmente vi lascerò il link sia a questo filato sia al sito lane di biella giù in descrizione oltre al filato ci occorreranno un uncinetto numero 7 dei marker una goda lana un paio di forbici e un metro vi dico brevemente cosa andiamo a fare per realizzare questo giacchino dobbiamo andare a fare un top down per prima cosa quindi scegliete il filato che più vi piace e l'uncinetto adatto a quel filato io ho scelto di realizzare uno sprone rettangolare che sono andata a suddividere in questo modo naturalmente la prima cosa da fare è quella di decidere la scollatura che volete io ho deciso di realizzare una scollatura per questo giacchino di 50 cm quindi ho avviato la catenella iniziale e sono andata poi a misurarla con il metro fino ad arrivare a questi centimetri quindi 50 centimetri e in 50 centimetri mi sono ritrovata con il filato everest un totale di 56 catenelle naturalmente dato che qui non ci sono multipli voi potete fare il numero di catenelle che preferite quindi potete realizzare la scollatura che che desiderate perché non non vi sono multipli per realizzare questo giacchino quindi una volta che ho trovato questi 50 centimetri che sono la mia scollatura che corrispondono a 56 catenelle aggiungo una catenella per girare e per prima cosa vado a fare un primo giro di maglie basse io sono andata a suddividere in questo modo poi lo sprone il primo giro che sono andata a fare qui è un giro di maglie di sole maglie basse quindi ho fatto la catenella ho girato e ho realizzato un totale di 56 maglie basse ho diviso poi nel secondo giro sono andata a dividere lo sprone in questo modo ho fatto per i due quarti davanti 10 maglie per le spalle per le braccia sono andata a realizzare 9 maglie invece per le spalle 18 maglie e qui si trovano appunto questi quattro lati sono dove poi andiamo a sviluppare gli aumenti nel primo giro dove vado a sviluppare lo sprone faccio una catenella di separazione per ognuno di questi segmenti quindi 10 maglie e una catenella 9 maglie una catenella 18 maglie e una catenella e così via quindi questo è quello che noi andremo a fare in breve è un progetto molto semplice che vi andrò a spiegare passo passo questo è lo sprone da realizzare vi ricordo che non ci sono moltipli quindi partiamo con la realizzazione di questo giacchino vi ricordo che all'inizio qui ho fatto un giro di maglie basse poi sono andata avanti facendo tre giri di maglie alte poi ho cambiato colore e qui sono andata a sviluppare questo motivo naturalmente vi spiego tutto nel tutorial ma adesso iniziamo a vedere come realizzare questo progetto io inizio con il bianco e userò per questo filato l'uncinetto numero 7 avvio una catenella che arrivi alla lunghezza di 50 centimetri perché voglio che sia questa la grandezza la larghezza della scollatura dato che non ci sono moltipli avviate una catenella quando la scollatura per voi va bene vi fermate quindi io avvio una catenella di 50 centimetri quindi vado a fare per prima cosa il nodino iniziale e parto facendo una catenella di 56 punti quindi avvio 56 catenelle 2 3 4 5 6 7 dopo aver fatto 56 catenelle che a me corrispondono ad una lunghezza di 50 centimetri faccio una catenella aggiuntiva quindi mi ritrovo con un totale di 57 catenelle il primo giro che vado a fare è un giro di maglie basse quindi salto la prima catenella quella più vicina all'uncinetto vado in quella subito dopo e realizzo la prima maglia bassa quindi vado a fare uno totale di 56 maglie basse una per ogni catenella sottostante dopo aver fatto 56 maglie basse vado a fare la suddivisione per realizzare lo sprone io realizzo uno sprone rettangolare e vado a suddividere in questo modo le maglie 10 maglie 10 maglie per i due quarti davanti 9 e 9 per lo spazio delle braccia e 18 maglie per le spalle che sono separati da una catenella vediamo in pratica come fare quindi qui mi ritrovo le maglie basse che ho realizzato giro il lavoro per prima cosa vado a realizzare una maglia bassa qui nella prima maglia che ho realizzato e faccio una catenella questa lavorazione in questo caso sostituisce le 3 catenelle che dovevo fare per sostituire la maglia alta ma in questo caso questa lavorazione per me sarà una maglia alta adesso vado a realizzare un totale di 10 maglie alte quindi questa è la mia prima maglia alta ne devo fare altre 9 quindi 2 3 4 per un totale di 10 maglie alte dopo aver fatto 10 maglie alte faccio una catenella soltanto una e vado a realizzare un totale di 9 maglie alte senza saltare nessun punto di base quindi vado qui e faccio 9 maglie alte 1 2 3 quindi dobbiamo avere un totale di 9 maglie alte dopo aver fatto 9 maglie alte di nuovo una catenella una catenella e vado a realizzare 18 maglie alte senza saltare nessun punto di base quindi 1 2 3 per un totale di 18 dopo aver fatto 18 maglie alte di nuovo una catenella senza saltare nessun punto di base vado a fare 9 maglie alte 1 2 3 per un totale di 9 maglie di nuovo vado a fare una catenella e realizzo l'ultimo segmento formato da 10 maglie alte non salto nessun punto e vado a fare 10 maglie 1 2 3 per un totale di 10 maglie come vedete si intravede già la forma dello sprone qui abbiamo i due quarti davanti formati da 10 maglie 10 maglie alte e qui abbiamo lo spazio delle braccia qui abbiamo quindi 10 maglie alte 10 maglie alte e qui lo spazio della schiena 18 maglie alte fino a questo punto abbiamo fatto due giri il primo giro per fare il colletto di maglie basse e poi abbiamo fatto questo giro di maglie alte adesso andiamo avanti nella lavorazione allora per prima cosa quindi io giro il lavoro e vado a realizzare di nuovo un giro il terzo giro di maglie alte facendo poi nello spazio della catenella l'aumento invece di fare 3 catenelle per salire io faccio in questo modo entro nella prima maglia e faccio una maglia bassa e poi salgo con una catenella e questa lavorazione sarà la mia prima maglia alta poi faccio una maglia alta per ogni punto sottostante fino ad arrivare dove si trova qui lo spazio della catenella arrivata qui e dove si trova lo spazio della catenella faccio l'aumento che formato da una maglia alta una catenella e una maglia alta sempre in questo spazio e poi vado avanti con il secondo segmento quindi faccio una maglia alta per ogni punto fino ad arrivare alla catenella arrivata dove si trova lo spazio di una catenella lavoro di nuovo l'aumento quindi faccio una maglia alta una catenella e una maglia alta nello stesso spazio proseguite sempre nello stesso modo quindi andate a lavorare ogni segmento in questo modo facendo una maglia alta per ogni punto quindi andate a fare una maglia alta per ogni punto poi quando vi ritrovate con lo spazio della catenella l'aumento è sempre lo stesso quindi andate a fare una maglia alta una catenella e una maglia alta per il segmento una maglia alta per ogni punto e qui dove si trova lo spazio di una catenella andate a realizzare una maglia alta una catenella e una maglia alta e qui realizzate sempre una maglia alta per ogni punto alla fine del giro non dimenticate di fare l'ultima maglia alta qui su questa catenella qui infatti abbiamo la lavorazione della maglia bassa e della catenella vado quindi a lavorare su questa catenella l'ultima maglia alta quindi non dimenticate di fare l'ultima maglia alta qui su questa lavorazione a questo punto giro il lavoro e il prossimo giro che sarebbe il quarto giro lo faccio nello stesso modo in cui ho fatto il giro questo il giro precedente quindi vado a lavorare sempre nello stesso modo in questo giro faccio per prima cosa una maglia bassa e una catenella che sostituisce in questo caso una maglia alta e poi vado a lavorare come abbiamo visto per il giro sottostante quindi vado a fare una maglia alta per ogni punto qui dove mi trovo la catenella vado a lavorare sempre l'aumento formato da una maglia alta una catenella e una maglia alta lavoriamo quindi questo giro come abbiamo lavorato il giro precedente per il prossimo giro cambio colore io userò il grigio l'uncinetto è sempre quello del 7 entro qui nella prima maglia alta catturo il filo e lo porto da quest'altra parte per prima cosa vado a realizzare una catenella in questo modo poi rientro qui nello stesso punto faccio una maglia bassa e una catenella questa lavorazione sostituisce la prima maglia alta poi vado a realizzare una maglia alta per ogni punto in questo modo lavoriamo una maglia alta per ogni punto fino ad arrivare in prossimità dell'aumento sono arrivata in prossimità dell'aumento qui si trova l'aumento formato da una maglia alta una catenella e una maglia alta io vado a realizzare qui prima dell'aumento subito prima su questa maglia alta e punto pass questo punto pass è formato da quattro maglie alte nella stessa maglia alta quindi vado a fare quattro maglie o maglie alte qui sempre nello stesso punto 34 tolgo l'uncinetto rientro nella prima maglia che ho realizzato prendo l'asola e tiro in questo modo come per fare una maglia bassissima e ho fatto il punto pass poi faccio 2 catenelle vado direttamente qui qui abbiamo l'aumento formato da una maglia alta una catenella una maglia alta quindi entro qui e faccio l'aumento formato da una maglia alta una catenella e una maglia alta di nuovo vado a realizzare 2 catenelle 1 e 2 come ho fatto qui da quest'altra parte e poi faccio un punto pass salto una maglia questa maglia alta vado in questa subito dopo e realizzo un punto pass formato da quattro maglie alte 2 3 4 tolgo l'uncinetto vado nella prima maglia alta che ho realizzato tiro in questo modo così per fare appunto il punto pass a questo punto vado a realizzare tutte maglie alte quindi non ho fatto in questo caso le catenelle ma vado a realizzare direttamente la prima maglia alta qui subito dopo e vado avanti sempre in questo modo faccio una maglia alta per ogni punto questo è il motivo come vedete che ho realizzato il punto pass le due catenelle poi ho fatto l'aumento classico di una maglia alta una catenella e una maglia alta di nuovo 2 catenelle il punto pass adesso vado a fare una maglia alta per ogni punto e poi qui andrò a realizzare l'aumento quindi partendo dall'inizio abbiamo fatto una maglia alta per ogni maglia alta sottostante poi ho realizzato il motivo di nuovo una maglia alta per ogni maglia l'aumento poi una maglia alta per ogni maglia questa è la parte delle spalle sempre l'aumento alla fine dal lato opposto del motivo quindi qua o il motivo da quest altro lato vado a realizzare di nuovo lo stesso motivo io mi trovo qua vado a realizzare il punto pass qui su questa maglia alta quindi la maglia alta che si trova subito prima dell'aumento vado a fare qui su questa maglia il punto pass che è formato da 4 maglie alte quindi 2 3 e 4 poi tolgo l'uncinetto vado nella prima maglia che ho realizzato tiro porto da quest'altra parte faccio 2 catenelle 1 e 2 entro direttamente qui dove si trova l'aumento e faccio un aumento quindi una maglia alta una catenella e una maglia alta faccio di nuovo 2 catenelle 1 e 2 il punto pass lo faccio qui quindi salto questa maglia alta vado in quella subito dopo e faccio il punto pass 1 2 3 e 4 maglie alte tolgo l'uncinetto vado nella prima maglia che ho realizzato tiro questa solina la porto da quest'altra parte adesso non faccio più le catenelle quindi questo è il motivo che ho realizzato vado a realizzare senza fare catenelle una maglia alta per ogni maglia alta sottostante fino alla fine non dimenticate di fare l'ultima maglia alta su questa catenella qui abbiamo la maglia bassa con la catenella dovete fare l'ultima maglia alta qui su questa catenella a questo punto dopo aver terminato il giro con il filato in grigio tagliate il filo e nascondete la codina perché dovremo andare a lavorare sul dritto invece di girare il lavoro e lavorare quindi sul rovescio andiamo a lavorare di nuovo sul dritto del lavoro quindi inizio la lavorazione da qui quindi mi trovo sul dritto del lavoro qui con il motivo e cambio filato cambio colore uso il lilla quindi uso il lilla entro qui su questa catenella qui ho la lavorazione di una maglia bassa una catenella entro qui e faccio per prima cosa entro in questo modo faccio per prima cosa una catenella rientro di nuovo nello stesso punto e faccio una maglia bassa e una catenella che sostituiscono in questo caso una maglia alta e poi realizzo una maglia alta per ogni punto quindi vado a fare una maglia alta per ogni punto sottostante andate avanti in questo modo poi vi faccio vedere come lavorare qui sul motivo sono arrivata qui dove si trova questo motivo con i punti pass per prima cosa vado a fare una maglia alta vicinissima al punto pass quindi qui dietro per evitare che si formi uno spazio quindi faccio questa maglia alta qui e poi vado a fare un punto pass sul punto pass formata sempre da quattro maglie alte tutte nello stesso punto 2 3 e 4 tolgo l'uncinetto entro nella prima maglia che ho realizzato tiro porto da quest'altra parte faccio due catenelle 1 e 2 e faccio l'aumento qui sull'aumento quindi faccio una maglia alta una catenella e una maglia alta e poi di nuovo 2 catenelle adesso devo fare il punto pass sempre qui sul punto pass quindi entro e vado a realizzare questo punto pass quindi faccio 4 maglie alte quindi 2 3 e 4 4 lascio vado nella prima maglia che ho realizzato porto la solina da quest'altra parte adesso non faccio le catenelle ma vado a lavorare direttamente una maglia alta sulla maglia alta quindi vado a fare direttamente una maglia alta per ogni maglia alta sottostante quindi in questo modo abbiamo fatto il motivo sul sul motivo sottostante come vedete adesso andate avanti sempre in questo modo facendo una maglia alta per ogni maglia alta qui dove si trova la catenella fate sempre l'aumento con una maglia alta una catenella e una maglia alta e alla fine dove si trova il motivo andate a realizzare sempre questo motivo come abbiamo appena visto quindi andate a realizzare nello stesso modo questo motivo sul motivo con il grigio dopo aver terminato questo giro con il lilla dobbiamo andare a ripetere sempre lo stesso giro quindi questo giro io alternerò le file con il colore grigio e lilla vado avanti nel lavoro e vi dico quanti giri ho fatto dobbiamo lavorare questi giri sempre dalla parte del dritto quindi una volta che siamo arrivati alla fine del giro invece di girare il lavoro quindi lavorando dalla parte del rovescio dobbiamo andare a nascondere questo filo e dobbiamo partire sempre dallo stesso lato quindi partiremo sempre dallo stesso lato per lavorare sempre questo motivo sulla parte del dritto adesso vado avanti nel lavoro e vi dico quanti giri ho fatto sono andata avanti nella lavorazione partendo dal grigio ho alternato grigio e lilla e sono andata a realizzare un totale di nove giri con questo punto fantasia a questo punto riprendo il bianco parto di nuovo con il filato bianco entro qui qui si ritrova la catenella qui ho la maglia bassa con la catenella quindi dentro qui nella catenella porto il filo da quest'altra parte per prima cosa faccio una catenella poi rientro nello stesso punto e faccio una maglia bassa e una catenella questa lavorazione sostituisce una maglia alta poi vado a fare una maglia alta per ogni punto quindi maglia alta per ogni punto sottostante vado avanti in questo modo e poi vediamo qui come lavorare sullo punto fantasia arrivata qui vicino al punto fantasia faccio una maglia alta qui qui dove si trova il punto pass qui vicino al punto pass faccio una maglia alta per evitare che si formino forellini poi entro qui sul punto pass faccio un'altra maglia alta in questo spazio lavoro una maglia alta proprio qui e poi vado a lavorare una maglia alta sulla maglia alta qui lavoro l'aumento sull'aumento quindi lavoro maglia alta catenella maglia alta e maglia alta di nuovo maglia alta qui sulla maglia alta nello spazio sempre la maglia alta e poi vado a lavorare qui quindi qui o il punto pass io lavoro prima una maglia alta qui per evitare che si formino degli spazi poi lavoro qui sul punto pass un'altra maglia alta qui subito dopo il punto pass qui dietro lavoro un'altra maglia alta sempre per evitare che si possono formare degli spazi e poi vado avanti sempre a maglie alte in questo modo fino alla fine del giro quindi qui ho lavorato come avete appena visto queste maglie alte mentre invece qui dove si trova l'aumento ho fatto sempre l'aumento formato da una maglia alta una catenella e una maglia alta andate avanti sempre in questo modo facendo una maglia alta per ogni punto sull'aumento fate l'aumento e arrivati qui da quest'altra parte lavoro lavorate le maglie alte come abbiamo appena visto dopo aver terminato questo giro di maglie alte facendo l'aumento su ogni aumento che si presenta dobbiamo andare avanti sempre in questo modo facendo questi giri di maglie alte e per ogni aumento realizzare l'aumento andate poi a misurare il giacchino in questo modo io ho piegato il giacchino prendete accostate questi due aumenti qua si crea lo spazio per le braccia mettete un marker da un lato e anche da quest'altro lato e indossate il giacchino nel momento in cui la manica va bene vi potete anche fermare poi vediamo come andare a chiudere qui per creare lo spazio delle maniche quindi io vado avanti facendo questi giri di maglie alte e vi dico poi quanti giri ho fatto quindi andate avanti in questo modo misurando man mano il giacchino quindi sono andata avanti ho fatto un totale di quattro giri con le maglie alte facendo i quattro aumenti naturalmente per ogni angolo come vedete le maniche sono leggermente a campana perché così proprio il modellino a questo punto io mi fermo per andare poi a chiudere questo che lo spazio delle braccia vi dico un po' di misure quindi io sono andata avanti e lo spazio delle braccia che vado a lasciare io vado a lasciare più o meno per le braccia 19 centimetri quindi io lascerò ho lasciato 19 centimetri quindi se a voi vi serve una manica ancora più larga potete fare un altro giro di maglie alte invece per quanto riguarda l'altezza che ho realizzato fino a questo punto io mi ritrovo con 34 centimetri quindi partendo dall'alto fino ad arrivare qui in basso a questo punto vi dico anche un po la larghezza del busto arrivato a questo punto per quanto riguarda il busto mi ritrovo con 54 centimetri adesso vi faccio vedere come andare a chiudere questo che lo spazio appunto delle maniche qui dove ho ancora il filo attaccato quindi sempre con il bianco entro qui nella maglia alta per prima cosa faccio una maglia bassa e una catenella che sostituisce una maglia alta questa lavorazione e poi proseguo sempre a maglie alte in questo modo fino ad arrivare qui dove si trova l'angolo arrivata qui dove si trova l'angolo ho fatto la maglia alta sulla maglia alta qui dell'angolo e adesso entro qui al centro dell'angolo e faccio una mezza maglia alta quindi tre asoline sull'uncinetto catturo il filo e porto tutto da quest'altra parte in questo modo quindi ho fatto una mezza maglia alta adesso prendo l'angolo opposto quello che si trova da quest'altra parte giro dalla parte del dritto quindi metto tutto dalla parte del dritto filo sull'uncinetto qui è il dritto del lavoro entro e faccio una mezza maglia alta in questo modo in questo modo quindi ho chiuso la manica e poi vado avanti sempre a maglie alte quindi andate poi dopo avanti sempre a maglie alte si va avanti in questo modo a maglie alte fino ad arrivare da quest'altro lato e vediamo come chiudere quest'altra manica arrivata qui da quest'altro lato ho fatto maglia alta sulla maglia alta entro nell'angolo facendo una mezza maglia alta anche qui poi vado dal lato opposto dove si trova l'angolo dalla parte del dritto questo è lo spazio della manica e vado anche qui a realizzare una mezza maglia alta qui mi trovo nel dritto del lavoro e faccio una mezza maglia alta e poi vado avanti facendo una maglia alta per ogni punto vado avanti in questo modo facendo una maglia alta per ogni punto fino ad arrivare qui fino alla fine a questo punto dopo aver chiuso le maniche come abbiamo appena visto vado a creare questa che la parte del busto quindi mi trovo sempre qui con il filo salgo facendo una maglia bassa nel primo punto con una catenella che sostituisce una maglia alta poi vado a fare una maglia alta per ogni punto quindi vado a fare una maglia alta per ogni punto fino ad arrivare da quest'altro lato sempre a maglie alte arrivo qui e salgo sempre e vado a fare dei giri di andate di ritorno per creare la parte del busto adesso vado avanti e vi dico quanti giri ho fatto per il busto come vedete sono andata avanti nella lavorazione partendo dal primo giro qua con il bianco alla fine ho fatto un totale di 13 giri per quanto riguarda l'altezza del giacchino quindi partendo dal collo qua fino alla fine ho realizzato una lunghezza di 52 centimetri per quanto riguarda invece le maniche io le lascerò così quindi le lascio a tre quarti non le faccio più lunghe perché per me il giacchino così va va bene se voi volete fare qualche altro giro potete farlo naturalmente se volete potete aggiungere anche magari un bottone qui per chiuderlo o anche due io sto ancora pensando se inserire o meno un bottone qui invece per quanto riguarda il consumo del filato io ho utilizzato un gomitolo dell'illa un gomitolo del grigio e due gomitoli del bianco di questo filato io spero che questo progetto vi sia piaciuto se si lasciatemi un bel pollice in su prima di lasciarvi vi ricordo che ho creato un gruppo facebook per le mie amiche di uncinetto se vi va iscrivetevi vi lascio il link giù in descrizione inoltre se vi va potete anche seguirmi su instagram trovate naturalmente il link sempre giù in descrizione e noi ci vediamo alla prossima ciao